Benvenuti in un nuovo video, sono Orkoverde, in questo video vi farò vedere il nuovissimo Wallbridge in un locale segreto all'Heliporto. Questo locale segreto barra Wallbridge è molto utile soprattutto per le persone che vogliono fare una strage all'Heliporto in una sezione pubblica. Praticamente ragazzi per entrare all'interno di questo locale segreto barra Wallbridge come prima cosa dovete arriccarvi in questa locazione. Una volta che vi sarete arriccati in questa locazione dovete avere un Brickade e un amico che vi aiutano ad entrare in questo Wallbridge o comunque sia locale segreto. Non so ragazzi se questo Wallbridge barra locale segreto funziona anche su Playstation 3 e Xbox 360 in quanto su Old Gen non c'è il Brickade e non so se per entrare all'interno di questo Wallbridge serve il Brickade per forza oppure può andare bene un altro veicolo. Voi dovete semplicemente premere quadrato per arrampicarvi dalla parte di dietro, dalla parte più alta delle Brickade. A questo punto il vostro amico che dovrà essere al posto di guida dovrà premere L2 per retreggiare e quindi andare in retromarcia con gli Brickade contro la parete di questo locale segreto. A questo punto il personaggio dovrà entrare automaticamente all'interno di questo locale segreto all'interno dell'eliporto e dentro questo locale segreto potete ammazzare la gente perché i colpi si sorpassano a muro da tutte le parti di questo locale segreto. Quindi un ottimo nascondiglio, un ottimo Wallbridge o comunque sia chiamatelo come volete per distruggere i nemici soprattutto se vi trovate in sessione pubblica e c'è gente che cerca di salire su un elicottero e non sa voi dove siete, dove vi trovate o meglio non sa di questo locale segreto. Voi potete farlo fuori tirandovi colpi di bazooka o anche colpi di fucile e quindi un ottimo nascondiglio sia per non morire e quindi essere immortali e sopravvivere alle taglie sia per fare rp infiniti chilando i poliziotti dopo un po' che state ferme all'interno di questo locale i poliziotti non vi vedranno così facendo le stelle cominceranno a lampeggiare fino a scomparire così facendo 100 rp ogni stelle da ricercato che avevate sulla testa. Potete fare di tutto ragazzi in questo Wallbridge divertendosi anche con i vostri amici trollando le persone per riuscire da questo locale segreto bar a Wallbridge dovete per forza suicidarvi o da meno interazione o con qualche bomba o comunque sia arma esplosiva. Che dire ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui vari social network e da all cover tutto ci vediamo prossimo video bella. Ciao